Il 1800 sarà un secolo dominato da moti rivoluzionari che si sussegueranno in diverse nazioni europee e che vedranno l'Italia per quanto ci riguarda come teatro di grandi cambiamenti. L'Europa si risveglia all'indomani della sconfitta di Napoleone nel 1815 con un equilibrio che è tutto da ristabilire e proprio per questo motivo i grandi dell'Europa si riuniscono a Vienna dove cercano di riorganizzare l'antico regime, quello precedente cioè a Napoleone stesso, per far sì che in maniera netta si affermi il principio che le rivoluzioni non serviranno a scalzare le monarchie precedenti. In effetti però è una battaglia quasi impossibile da vincere perché ormai si è messo in moto un processo che porterà questo tentativo a non essere foriero, a non raggiungere il suo obiettivo. Il congresso di Vienna cercherà di riportare l'Europa alla situazione precedente alla rivoluzione francese. Le nazioni che cercano di ridare questo assetto saranno le quattro più importanti, la Gran Bretagna, la Prussia, la Russia e l'Austria. Si vuole riportare l'Europa ad una situazione di equilibrio che venga mantenuta attraverso intanto il ripristino delle vecchie monarchie ma contemporaneamente la creazione di condizioni che impediscano da questo momento in poi che possa succedere qualcosa come quello che per esempio è successo con la Francia di Napoleone Bonaparte. E così viene ridisegnata sostanzialmente la mappa dell'Europa attraverso una serie di confini che vengono messi a tavolino ma che non tengono conto però del fatto che i popoli vogliono autodeterminarsi cioè non sono più disponibili ad accettare senza battere ciglio il predominio e l'imposizione delle monarchie nei confronti appunto della loro volontà di autodeterminarsi. In maniera particolare, consapevoli di questo limite, le nazioni si organizzano in due grandi alleanze che hanno entrambe il compito di frenare, arginare le tensioni rivoluzionarie che non si sentono soltanto in Italia ma anche in tutta quanta l'Europa. Così nasce da una parte la Santa Alleanza con alcuni paesi dell'Europa e chiaramente il regno di Sardegna insieme e dall'altra parte la quadruplice alleanza con le quattro grandi potenze dell'Inghilterra, Austria, Prussia e Russia schierate dall'altro lato. La situazione in Italia è particolare perché è molto frammentata nel senso che se da una parte persiste chiaramente nell'Italia centrale lo stato della Chiesa il regno di Sardegna e al sud sempre il regno delle due Sicilie con la presenza dei Borbone nel resto dell'Italia, l'Italia prevalentemente del nord, l'attore Lombardia e il Veneto sono in questo momento sotto il dominio degli austriaci. Una situazione che in effetti non è ben gestita per il semplice fatto che nonostante la sua presenza forte e minacciosa l'Austria non riesce, gli Asburgo non riescono a porre freno a quelle aspirazioni unitarie che tutta quanta l'Italia vive. L'unità d'Italia ancora non è mai nel corso della storia stata realizzata ma le tensioni ormai sono tali che una dopo l'altra si sussegueranno una serie di rivolte che porteranno finalmente nella seconda metà del 1800 al raggiungimento dell'obiettivo dell'unità d'Italia nel 1861. All'interno dell'Italia si va a due velocità, la parte del nord con l'oppressione degli austriaci che comunque vive ancora degli sprazzi di idea riformista alla Napoleone ma dall'altra parte c'è un sud fortemente tirato, frenato dalla presenza degli spagnoli che invece non creano per nulla le condizioni perché il popolo possa in qualche modo evolversi anche da un punto di vista economico. All'interno di questo quadro storico si sviluppa una corrente di pensiero che non è possibile definire esclusivamente una corrente letteraria perché come tante altre correnti avvolge più dimensioni sicuramente quella culturale ma anche quella filosofica e in questo caso più che in altri quella politica. Intanto nasce in Germania, poi si sviluppa anche in Inghilterra per poi generalizzarsi, diffondersi nel resto dell'Europa. Si tratta di un movimento che è fortemente caratterizzato da alcuni elementi che pur essendo poi radicati in realtà storiche, culturali, geografiche e diverse hanno alcuni tratti in comune. Il primo è quello della critica alla visione eccessivamente razionalista dell'illuminismo che aveva in qualche maniera tenuto fuori dalla considerazione degli intellettuali la dimensione oscura alla ragione, non visibile alla ragione cioè quella dei sentimenti, delle passioni. In più c'è tutta la dimensione della spiritualità che sempre l'illuminismo aveva messo in silenzio in nome di un deismo che aveva più tratti di razionalità che di spiritualità. L'irrazionalità, altra dimensione, chiaramente opposta alla razionalità cioè tutto quello che è irrazionale, l'illuminismo lo aveva silenziato mentre invece è parte della nostra vita cioè anche quelle dimensioni che non ubbidiscono a regole precise di razionalità comunque ci appartengono, appartengono all'essere umano e queste devono essere per l'appunto rivalutate, riconsiderate perché esistono. La natura nel Settecento, soprattutto con le tendenze neoclassiche era stata eccessivamente enfatizzata era stata considerata il luogo della perfezione il luogo della riconquista di una primitiva serenità viene in questa nuova dimensione romantica rivista e diventa anche un dibattito il centro di un dibattito interessante ma lo vedremo soprattutto svilupparsi nel romanticismo italiano questa dimensione di infinito, di assoluto che avvolge anche le atmosfere proprie del tempo che vivono i romantici o meglio gli uomini che vivono nell'Ottocento diventa una nuova ricerca un nuovo filone di ricerca per gli intellettori romantici e anche in questo caso l'idea del genio creativo quello cioè che è ispirato da questi sentimenti passionali fortemente razionali cerca di sviluppare, di dare forma con questo spirito con la forza creatrice all'arte e alla poesia dicevamo prima che il romanticismo è fortemente legato ai temi politici del momento impossibile che questo non accadesse perché c'è un'Europa in fermento un'Europa che è alla ricerca di una definizione di confini chiari che diano nome ai territori il nome di nazione il nome di popolo che abita all'interno di una nazione e così questi due concetti quello di nazione e quello di popolo diventano centrali nelle tematiche affrontate dai romantici e contemporaneamente in questa nuova dimensione che prende il nome di nazionalismo che deriva sicuramente come conseguenza dagli spiriti animati durante il periodo del Settecento da quei principi del diritto il diritto alla fratellanza il diritto alla libertà il diritto all'eguaglianza tutti i diritti che erano stati concepiti e razionalizzati durante il Settecento e che oggi diventano fondanti del concetto di nazione quindi ogni popolo ogni comunità ha diritto a costituire un proprio stato con dei confini ben precisi e con un popolo che ne faccia parte si sviluppa sempre in questo periodo una nuova idea anche di tipo politico economico il liberalismo appunto una corrente di pensiero che sostiene sempre sulla scorta dei principi illuministi che ogni uomo ha dei diritti che sono inviolabili e questi diritti derivano fondamentalmente appunto dalla libertà diritti inviolabili che porteranno i popoli a richiedere anche delle carte scritte all'interno delle quali vengano sanciti questi diritti inviolabili è quello che succederà con la monarchia costituzionale inglese è quello che succederà nel 1774 con la rivoluzione americana e poi dieci anni dopo quindici anni dopo con la rivoluzione francese e da lì a poco in altri territori in Spagna e in Italia ci saranno altre rivoluzioni l'idea del liberalismo è che ogni imprenditore ha diritto ad avere una libera iniziativa che da un punto di vista economico la libera iniziativa imprenditoriale fa sì che il cittadino che ha i capitali da poter investire all'interno di un'impresa deve essere libero di farlo e per questo motivo a questo si unisce anche la libertà di espressione e la libertà di movimento capiamo bene quindi come si stanno portando a compimento i principi della rivoluzione che il settecento che il razionalismo settecentesco aveva già ispirato dicevamo quindi che in altre nazioni si sviluppano queste tensioni verso l'ottenimento di carte costituzionali il primo fra questi la prima fra queste sarà la Spagna che nel 1812 avrà la prima costituzione la costituzione di Cadice la località in cui appunto viene firmata poi ci sarà la costituzione ottenuta dall'interno del territorio francese da Luigi XVIII e in tutta Europa ci saranno una serie di moti rivoluzionari che rimarreranno anche in Italia dove è attiva la carboneria una tra le più importanti società segrete nella quale si riuniscono nelle quali in effetti si riuniscono gruppi clandestini di di uomini che tentano di opporsi alle monarchie assolute i primi moti si avranno nel 1820 1821 poi in Europa e anche in Italia poi ne avremo nel 1830 1831 i tentativi si verificano anche in Spagna contro i Borbone ma questi non riescono a raggiungere altri obiettivi se non la repressione da parte di Ferdinando VII di Borbone e poi nel regno delle due Sicilie dove anche qui si pensa di riuscire a rivoluzionare la situazione ma anche in questo caso nonostante appunto il tentativo della Sicilia di separarsi dal regno di Napoli appunto il tutto viene frenato il tutto viene fermato diversi sono i tentativi anche nel resto dell'Italia 1830 1831 1848 soltanto nel 61 avremo in Italia l'unità mentre in Russia anche qui si tende un colpo di Stato ma in Russia non si ottiene nulla se non una repressione feroce da parte dello zar Nicola I che appunto reprime nel sangue il tentativo di insurrezione popolare ok Grazie.